E ti chiede, a proposito degli acciacchi che hai avuto in stagione, i tuoi piccoli malanni fisici sono dovuti alle frequente progressioni cui devi far fronte giocando in fascia, anziché ai più abituali scatti da attaccante centrale? La tua massa muscolare forse non era abituata a questo tipo di ruolo? Che peraltro hai già spiegato prima, hai fatto l'anno scorso, però capita durante l'anno di avere qualche infortunio e poi giustamente il muscolo non ritorna sempre al 100%, quindi fa parte del mestiere, però non è data ai continui ad appunti. I lavori sanno perfettamente che gli infortuni di natura muscolare sono più difficili da curare di non quelli traumatici, sono infortuni delicatissimi. Che noi giochiamo al massimo.